forse l'ha lasciata in pace non sembra neanche un topo ad essere onesti eh io mi metterete due sopra la carta anche se non vuole essere disturbato eh, porta una secca oddio perchè un serpente sembra un canino che annuncia l'osso oddio 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 se ce l'ha dati oddio 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 no no davvero stai fermi, non fermo ườimente perchè la disturbi a me tu mi sembri un pò deficiente la mona se devo essere onesta secondo me non lo mangio fa troppi figli ma è caldo eccola voglio prendere io? no ti ha preso male? ti preoccupa che sarà giusto berlina il suo primo pasto ora puoi prendere l'aeroporti zoom un pochino eh perde il fuoco perso definitivamente io lo farei dal di la eh ma dimuovo il letto no dai cazzo dai guarda non ci entra tutto posso provare? tiè però non fare i movimenti roschi non lo faccio senti no 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 vieni di qua mettitici te ma perchè urli? secondo me ti senti? non è meglio così non è meglio così minchia fa effetto però ce la vuoi fare Ramu? dai io non so come fanno sembra sembra un bel pirattolo sembra un bel pirattolo si però sei proprio zocco là dentro eh Ramu? no non ci picchia la posta brava vedi grazie grazie Ramu per questo meraviglioso spettacolo che ci sta costruendo non gli c'entra la zampa senti io dico che ce la fa vedi che è storta si l'ha presa male l'ha presa l'ha presa al contrario dai se mi fai l'aiuto no 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 devi la far da sempre certo che devi la far da dai dai cozzo si però sei un po' un granare non ce la fa a me sembra che sia sparito invece ce l'ho più di metà in bocca ce l'ho più di metà in bocca oh ora ora si ora si vai vada che toro a me continua a dispiacermi eh cosa? i tovoli amm tanto sei scemo amm amm oh ma guarda che è cresciuta Mimba ci credi? no 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 guarda com'è com'è secca subito prima del cos'è? allontati guardano un po' di più vedi qui sta succhiando qui mmm è piccino è vero è vero vediamo le belle il risucchio di Ramona a me mi fa impazzire perchè lo vedi che sulla testa è rossa a macchia e grisce e poi quando mi fanno che va giù mi metta grisce a macchia e grisce non è stata ha finito? si l'ho mangiato brava Ramo brava saluta la sua mamma Lilu nonno Lilu e il primo pasto è fatto bene bene ecco